Nel salone dell'innovazione del nuovo padiglione della Fiera delle Vante di Bari sono state proposte dal vivo le appassionanti lezioni del professor Vincenzo Schettini con il suo progetto La Fisica che ci piace che sta spopolando sul TikTok. Sul palco il prof più amato dal web che nella vita insegna davvero fisica ha tenuto un talk nel quale ha spiegato come fa nei video postati in rete alcune leggi della materia, nell'immaginario comune un po' noiose ma dalle sue versioni divertenti e coinvolgenti. Centrale è stata la partecipazione dei presenti alle sue lezioni. Il successo del progetto dell'ingegnoso prof originario di Castellana Grotte è tale che oltre al web e allo spettacolo live è stata sviluppata un'iniziativa editoriale di Mondadori. Proprio da qualche giorno è disponibile infatti il libro omonimo La Fisica che ci piace. Un professore anomalo che ha già molta confidenza col palcoscenico, sin da piccolo infatti è attratto dalla musica e in questo settore ha ottenuto importanti risultati, specie con i Wanted Chorus, un gruppo vocale attivo dal 1997, da lui stesso diretto e creato che si caratterizza appunto per il genere musicale, il gospel. Numerosi sono stati gli spettacoli tenuti in Italia e all'estero, tra questi il suggestivo Passion Christ tenutosi nella grave delle grotte di Castellana. Con questo background artistico ha realizzato dei tutorial di fisica e un quiz su materie scientifiche e non pubblicati su Youtube e TikTok. Questa sua idea è piaciuta molto e in breve tempo, grazie alla rete, è diventata una web star. Beh, la Puglia si è sempre lanciata, non c'è niente da fare, non è la prima volta che dimostra di essere creativa, avanti, orgogliosa di se stessa e dal punto di vista innovativo in questa fiera la Puglia sta dimostrando che l'innovazione può entrare in ogni campo, l'abbiamo visto con le macchine a cuci, l'abbiamo visto con il risparmio energetico, il cambiamento. Quindi è viva chi pensa che il cambiamento sia la strada migliore per vivere meglio. Quindi questa è una cosa molto importante, specialmente un appello ai giovani pugliesi. Dateci dentro, dateci dentro che la nostra regione risponderà a voi.